Eccoci, eccoci ritornati qui, ci siamo accomodati perché abbiamo dato il benvenuto e il bentrovato al nostro carissimo Don Salvatore Miscio, ciao Don Salvatore benvenuto, ben trovati carissimi amici E allora è un anniversario importante quello che oggi ricordiamo perché 25 anni fa si spegneva Fabrizio De Andrè all'età di 59 anni e oggi ecco ci pareva opportuno ricordarlo uno dei grandi della musica italiana della poesia italiana, uno dei grandi italiani che ha dato lustro davvero al nostro paese e nel mondo lo facciamo Paola attraverso un libro che Don Salvatore ha scritto, dico bene Esatto, un libro edizioni Ave ed è uscita una nuova edizione di questo libro di Don Salvatore Miscio lo vediamo qui nel nostro led, Dio del cielo, vienimi a cercare, Faber uomo in ricerca una nuova edizione, che cosa hai aggiunto alla precedente Don Salvatore? Ho aggiunto alla precedente intanto un racconto che fa un po' da introduzione il racconto di questi più di sette anni da quando è uscito il libro perché il libro nella sua versione originale è uscita nel 2016 e in questi sette anni mi ha costretto a girare tutta l'Italia di incontrare tantissima gente, inviti arrivati da ogni dove, sia dalle parrocchie, le contesti di azione cattolica sia da ambienti totalmente magari estranei agli ambienti ecclesiali e quindi è stata l'occasione per incontrare tanta gente, confrontarsi il terreno comune è stata la poesia di Fabrizio De Andrè quindi ecco in un primo, in una introduzione racconto proprio questo poi chiudo il libro invece con una piccola opera teatrale, piccolissima dove in qualche maniera rivisito tante delle canzoni di Fabrizio De Andrè e il protagonista principale di questo monologo è Tito nella canzone Il testamento di Tito che è dall'alto della croce dove sta morendo e racconta il punto di vista di Dio appunto raccontato da Fabrizio De Andrè e poi infine c'è una postfazione di Don Carlo Scaciga che saluto perché mi ha promesso che riusciva a seguire questa mattina la trasmissione in diretta e Don Carlo che mi ha raccontato la sua esperienza con De Andrè lui nel 1969 regalò i Vangeli Apocrifi a Fabrizio De Andrè e un anno dopo Fabrizio pubblica la buona novella proprio ispirata ai Vangeli Apocrifi per cui ecco si è arricchito di queste cose preziose ma fondamentalmente resta un po' il libro pubblicato appunto nel 2016 E Don Carlo scrive proprio questo libro forse il più scarno e il più profondo uscito in questi anni anche al di là del tema specifico e dello straordinario personaggio che evoca Fa bene alla mente e al cuore Bene, grazie Don Carlo ho fatto un grosso complimento a questo libro e insomma gli sono grato per queste parole molto belle Ma è la poesia di Faber che fa bene alla mente e al cuore perché davvero scandagliando chi ha modo chi ha avuto modo chi magari seguendo questa nostra chiacchierata avrà modo di andare anche semplicemente su Spotify su YouTube a ricercare le poesie di Fabrizio De Andrè non può davvero non rendersi conto della bontà di questi testi, di queste poesie che parlano di un uomo in ricerca Don Salvatore Sì esattamente sono proprio l'espressione di un uomo in ricerca un uomo che vive la vita non perde nulla di quello che gli accade e soprattutto un uomo che non ha paura della complessità della vita per cui in un tempo nel quale la canzone italiana in qualche maniera aveva degli standard abbastanza definiti Fabrizio comincia a introdurre nelle sue canzoni nei suoi versi personaggi diciamo derelitti personaggi messi da parte personaggi tabù tra virgolette nella poesia e nella canzone italiana e soprattutto temi temi scottanti temi come appunto la diversità come la guerra e le ingiustizie quindi di fatto davvero Fabrizio De Andrè ha permesso anche alla canzone italiana di fare un salto di qualità lui insieme ad altri ovviamente ma lui in maniera particolare perché davvero i suoi personaggi sono i vinti non sono i forti e soprattutto anche dei forti di quelli riusciti apparentemente e mette sempre in evidenza anche le contraddizioni per dire che ci accomuna questa profonda umanità Prima ci raccontavi appunto che sei stato costretto a girare l'Italia in lungo e largo per presentare questo libro hai incontrato anche molti giovani ti hanno chiamato anche nelle scuole o in parrocchia a presentare questo libro o non è proprio per un pubblico giovane? Allora Fabrizio De Andrè sicuramente è conosciuto più da quelli avanti negli anni tra virgolette per i boomer esatto come me grazie per avermi dato indirettamente del boomer no l'ho dato a noi ho anticipato dicendo come me quindi sicuramente per i boomer ma voglio dire lo è anche per tanti giovani intanto perché molti insegnanti nelle scuole fanno progetti riguardo a Fabrizio De Andrè e quando i ragazzi anche i più giovanissimi sto parlando anche di ragazzi di scuola primaria e di scuola media scoprono Fabrizio De Andrè e ne restano incantati e tra l'altro in molte delle presentazioni questo lo dico nella introduzione a questa nuova edizione molti genitori hanno acquistato il libro e mi hanno chiesto una dedica per i loro figli adolescenti innamorati di Fabrizio De Andrè quindi questo è importante e poi voglio dire sono state tante le presentazioni del libro accompagnate da musica suonata dal vivo da gruppi da cover band di adolescenti quindi questo è anche un segno molto bello a me De Andrè colpisce molto la descrizione che fa dei propri personaggi penso alla città vecchia a volte alla carta insomma tutti questi testi che in qualche maniera restituiscono un senso di umanità che tante volte il mainstream tende un po' un po' a dimenticare e il senso di giustizia anche di De Andrè che è importante da questo punto di vista perché lui si fa piccolo tra i piccoli se vogliamo io lo immagino tra i caruggi di Genova un po' con il suo taccuino a scrivere questo senso di giustizia in qualche maniera ci restituisce anche se vogliamo degli aspetti che Papa Francesco sottolinea nel suo magistero nel suo pontificato non so se è azzardo troppo a dire questa cosa no credo che non sia azzardato diciamo l'accostamento dei due personaggi perché sia Fabrizio che Papa Francesco in qualche maniera provano a restituire al mondo intero uno sguardo una prospettiva che parta dagli occhi e dall'esperienza dei piccoli dice Papa Francesco non solo dobbiamo prenderci cura dei più poveri ma dobbiamo imparare dai più poveri questo ci dice appunto che il magistero di Papa Francesco come del resto le canzoni le prospettive la prospettiva delle canzoni di Fabrizio di Andrè era una prospettiva che guardava le cose dal punto di vista dei più piccoli infatti proprio la città vecchia che tu citavi si conclude dicendo che se li guardi da buon borghese quindi dal punto di vista del mainstream appunto condannerai tutti a 5 mila anni più le spese ma se li guardi se provi a incontrarli e incontrarli fino in fondo ti accorgerai che se non sono gigli sono pur sempre figli vittime di questo mondo che cosa c'è di spirituale nella sua musica nelle sue canzoni a parte di questo aspetto che abbiamo appunto detto dei più piccoli sì grazie per questa domanda Paola perché sicuramente c'è tanto di religioso cioè nel senso che la domanda in qualche maniera di Dio di un'ulteriorità emerge nelle canzoni di Fabrizio di Andrè ma la domanda di Fabrizio più che religiosa è spirituale nel senso che lui non si accontenta semplicemente di assecondare un bisogno di una ulteriorità come dire di una trascendenza in qualche maniera visto che magari l'esperienza del mondo in qualche maniera ti rimanda a qualcosa di più grande ma lui cerca in modo particolare una figura particolare che è quella di Gesù Cristo ecco perché è davvero spirituale nel senso che Fabrizio in tutte le sue canzoni non ha paura di dire che non vuole credere a un Dio perché è come dire quasi come una proiezione umana come ci direbbero gli psicologi ma come quel Dio che in Gesù Cristo si è reso uno accanto agli altri a combattere le battaglie accanto ai poveri a farsi piccolo tra i piccoli e soprattutto a ricordare che di fronte alla vita degli altri c'è sempre un punto di vista di Dio che noi non sapremo mai cogliere che ci invita a fermarci a sospendere ogni giudizio ecco perché uomo in ricerca Faber un uomo in ricerca senti Don Salvatore io ho ripreso un verso del testamento di Tito che è un po' il filo il firruge di questo di questo tuo volume De André fa dire a Tito insomma io nel vedere quest'uomo che muore madre io provo dolore nella pietà che non cede al rancore madre ho imparato l'amore è un segno di speranza sì è un grande segno di speranza e soprattutto è una centratura cristologica di altissimo livello mi spiego Fabrizio De André quando scrive quest'album in qualche maniera di fatto rivisita il modo di credere e mette in evidenza come dire l'incongruenza di un modo di credere che diventa disumano poi in modo particolare a Tito dà il compito di rivisitare i dieci comandamenti e di notare come sono stati vissuti dalla morale cattolica dalla morale cristiana in maniera ipocrita nel senso che molto spesso la legge è stata utilizzata per difendere i diritti dei ricchi e mettere in evidenza le fragilità dei poveri a canirsi contro di essi ecco Tito è quel povero che dice io ho avuto il coraggio di sentirmi libero rispetto alla morale a quello che gli altri si aspettavano mi sono comportato in maniera autentica pur contravvenendo alla legge però dice di questa legge hanno soprattutto dimenticato la parte più importante e cioè il perdono lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono e questo perdono lo mette in evidenza proprio in quegli ultimi versi quando dice madre io non provo dolore per il fatto di non aver rispettato la legge che oggi sia stato condannato a morte per questo però dice nel vedere quest'uomo che muore cioè nel vedere l'umanità che soffre che muore ingiustamente io provo dolore ma soprattutto nel vedere un Cristo che pur ucciso ingiustamente perdona quanti lo stanno uccidendo ho capito che cos'è l'amore quindi il centro di tutta la legge che poi Cristo stesso ribadisce questo concetto è l'amore ma soprattutto l'amore che si fa misericordia stiamo vedendo anche alcune immagini tratte dal dal sito della fondazione fabrizio fabrizio deandre.it se riuscissimo ad avere anche un po' di audio chiedo alla regia di Luigi e di Vito so di ti sto facendo forse una domanda scomoda si tratterebbe di scegliere una canzone qual è la canzone del cuore di Don Salvatore Miscio oppure l'album del cuore di Fabrizio de Andrè sì sì appunto è come chiedere di scegliere quale figlio preferisci è un'operazione complicatissima però ce ne sono tante che amo e sicuramente il pescatore perché in qualche maniera definisce la figura di questo grande poeta che era Fabrizio e che era lì capace di accogliere la vita così come arrivava come questo pescatore che lo immaginiamo dinanzi al mare a un certo punto accoglie un assassino senza sapere che sia un assassino no? è l'assassino piuttosto che senza il bisogno di dire ho sete sono un assassino no? però Fabrizio lo accoglie il pescatore Fabrizio il pescatore poeta lo accoglie gli dà il pane e il vino semplicemente perché quell'uomo ha fame e ha sete e lo lascia andare forse anche a rischio della propria esistenza perché resta segnato da questo incontro quel solco lungo il viso non sappiamo se sia il sorriso dell'incontro appena avvenuto o addirittura il taglio di un assassino appunto però di fatto di fronte a tutto questo Fabrizio non si muove verso il giudizio non si muove verso la condanna e non si mostra nemmeno collaboratore dei gendarmi che vanno lì a cercare un assassino ma semplicemente verse il vino e spezza il pane un gesto talmente forte che richiama in qualche maniera simbolicamente al gesto di Gesù Cristo se la memoria se la memoria non mi inganna queste immagini sono tratte forse l'ultimo concerto dal vivo di Fabrizio De Andrea al Brancaccio di Roma nel 98 se la memoria non mi inganna ah sei proprio un boomer allora siamo esattamente nell'agosto del 1998 appunto al teatro Brancaccio purtroppo al termine di questo concerto Fabrizio verrà a sapere anzi no avvertirà un malore sarà ricoverato e saprà purtroppo la diagnosi in fausta che di lì a pochi mesi lo porteranno tu mi hai anticipato io a questo volevo ricollegarmi perché volevo sapere poi come si è approcciato alla morte lui che la morte l'ha cantata comunque in qualche maniera pur sapendo che diciamo la prognosi del suo cancro sarebbe insomma stata in fausta sarebbe morto diciamo da lì a pochi mesi come si è approcciato poi lui alla morte quando l'ha riguardato in prima persona beh io diciamo nel dettaglio non conosco queste cose però il racconto un po' del figlio degli amici raccontano sicuramente un Fabrizio che voglio dire in un primo momento si è molto incupito si è molto rattristato anche perché aveva nel cuore ancora tanti progetti soprattutto stava vivendo insieme con i figli sia con Cristiano che con Luvi questo questo concerto tra l'altro un concerto capolavoro nel senso che ci raccontano i figli che il suo lavoro di preparazione era meticoloso sfiniva quanti lavoravano con lui però al canto aveva Cristiano che tra l'altro è un musicista anche lui uno strumentista soprattutto come lo definisce il padre di altissimo livello quindi sicuramente aveva nel cuore tanti progetti aveva nel cuore anche di scrivere tra le altre una canzone su San Francesco quindi tra gli appunti ritrovati nella sua scrivania ci sono questi primi versi di una canzone dedicata a Francesco dice con la tua povertà hai saputo umiliarci per dire che ecco ammirava di questo personaggio della storia italiana che è Francesco D'Assisi soprattutto la capacità di essere povero e libero poi il provvidenza ha voluto che di lì a qualche anno arrivasse un papa che scegliesse il nome di Francesco e niente però ecco dalle sue canzoni possiamo indovinare possiamo sicuramente essere certi che avendo avuto il coraggio di viaggiare nella sua vita in direzione ostinata e contraria sicuramente alla morte avrà consegnato una goccia di splendore Don Salvatore grazie per essere stato con noi ricordiamo il titolo del tuo libro della casa editrice Ave Dio del cielo vienimi a cercare Faber Uomo in ricerca nuova edizione eccola qui la copertina firmato naturalmente da Don Salvatore Miscio che salutiamo e ringraziamo c'è un altro tuo cantautore preferito? Beh ce ne sono tanti tra uno che associo molto a Fabrizio D'Andrea e Francesco De Gregori che tra l'altro ha incrociato sì magari ha incrociato anche Fabrizio D'Andrea hanno scritto qualcosa a quattro mani quindi mi piace in questo momento ricordare anche lui bene grazie Don Salvatore noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità pochi istanti di pausa e poi ancora insieme grazie grazie a tutti grazie a tutti